Lunedì 31 luglio, oggi è il primo giorno della seconda settimana di raduno, nonché primo giorno libero effettivamente di conseguenza ci sarà un po' più di tempo, magari riesco a raccontarvi qualcosa di diverso per esempio l'integrazione che avevo promesso nella parte 2, che adottiamo appunto in questo raduno e poi ho sentito di una sfida a golf tra il doc e il fisio vediamo se riesco a farmi anche un giro per folgaria, a vedere il campo da golf perché dicono che sia anche bello grande, vediamo se riesco a fare qualcosa di diverso anche perché oggi pomeriggio poi ci sarà lo shooting day quindi devo fare la barba assolutamente Ti hanno scritto delle ragazze per il vlog? Tantissime Sì? Non riassunto rispondo Ma perché sei uscito nel vlog? Interrompo solamente un secondo dal futuro, poi capirete dove sono nel proseguo del video per parlarvi dell'integrazione che utilizziamo in questo raduno Iniziamo la mattina, prima di colazione, con 3 prodotti il primo è l'omega 3, che è un antiossidante cerca di ridurre l'accumulo di fatica, specialmente in questi momenti di raduno il secondo sono semplicemente delle pastiglie multivitaminiche cercano di mantenere il tono, semplicemente cercano di farci stare bene e sentirci più energici e la terza è una polvere gialla che serve per le articolazioni ovviamente non fanno una differenza incredibile ma sono degli aiuti necessari che abbiamo in questi periodi di lavoro intenso oltre all'alimentazione però l'alimentazione io obiettivamente e umilmente parlando non è che sia un pro in conseguenza di trasmettervi quanto sia anche importante prendersi cura del proprio corpo in questi momenti di allenamenti intensi ora ritorniamo nel passato che ci sono i ragazzi che giocano a golf guarda, mi metto comodo per riguardarmelo anch'io marcia, folle, non va dietro dietro claxon claxonale, fino a tu, non è no piano vai di qua ai professionisti nooo che serino mi riesco ha bisogno di un passaggio? si, dove porta? alla prossima buca 17 piano non prendi no no vai vai non è il frenato se il frenisco ma che f***i si infrano ho detto vai piano non ho capito si sta andando forte rapida dichiarazione sulla partita un giro veramente fenomenale complimenti a lui dottore una dichiarazione dottore dottore quindi una rapida dichiarazione dottore sulla partita è stato facile come sparare sulla crocetta sì, però lui sei un po' sbarone boccia fatta barba fatta anche se non sembra adesso si va allo shooting dove vedremo per la prima volta le divise ed è sempre è sempre un'emozione usarla in partita è un'emozione grandissima ma anche vedere la maglietta dell'Italia col proprio cognome anche se solo per uno shooting non so che scrivere ma che grosso ma mia ove scoppia Non ci stanno nell'iPhone 6 giga di schiena come Omar Secondo giorno della settimana Oggi ripartono gli allenamenti Oggi sarà il penultimo allenamento qua a Folgaria Perché domani faremo allenamento e poi partiremo Per andare verso Trento dove poi Avremo il torneo nel weekend La giornata sarà fatta così Adesso abbiamo allenamento la mattina Nel pomeriggio dopo pranzo avremo una riunione Per quanto riguarda l'anti-doping Cose giuste da sapere Per gli atleti Nel pomeriggio un po' più tardi avremo il secondo media day Oggi è più dedicato agli sponsor Quindi vedremo cosa salterà fuori Per continuare la faccenda dell'integrazione Di solito dopo gli allenamenti Se non abbiamo pesi prima Prendiamo degli aminoacidi E della creatina Per ovviamente aiutare il recupero Non ho le foto del prodotto Però penso possiate fidarvi di quello che dico Adesso si pranza E poi c'è la riunione Quindi adesso vado O si raggiunge la cifra che ci viene detta Oppure ovviamente va chiuso e sigillato il tutto In modo che non ci siano contaminazioni Prima del prelievo bisogna lavarsi le mani In modo che non ci siano contaminazioni Contamore o senza? Senza sapone Perché il sapore potrebbe essere contaminato Successivamente la selezione delle scatole In modo che non ci siano anche lì tramelli Scegli e poi ti fanno controllare tutti quanti i numeri Tu devi controllare che siano tutti quanti giusti Delle boccette, la boccetta rossa, la boccetta blu E tutto quanto Perché una è per il test e l'altra è per la controprova Per l'assaggio Per il controllo Perfetto E poi si compilano tutte e quante le cose C'è un momento in cui si va a vedere l'idratazione dell'atleta E poi ci sei saluta E si vede Siamo di nuovo qua Ma con un brufolo in più Dai Dammela Andiamo Dai Brucirmi direi che l'abbiamo fatta E adesso cena di squadra Ora tocca fare le borse che domani si parte Giorno numero 3 Sto valutando che le riprese la mattina sono terribili Perché c'ho la faccia che sembra essere stato picchiato Oggi giornate di tensione Perché abbiamo l'allenamento Il trasferimento E poi oggi pomeriggio sono ospite d'afterbook Non ci credo Eppure è tornato il pullman Lo faccio vedere dentro così Questo è il pullman E sicura la macchina di aria E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più e anche oggi c'è un po di gente siamo arrivati ora a trento ecco l'hotel non ci credo ci sono già le puffo sulla finestra ok dai ripresa super fake perché mi sono dimenticato di fare la ripresa l'arrivo perdonatemi non sono un professionista è arrivato il momento mi è arrivato il messaggio di gg che devo scendere per il podcast registrata la puntata del podcast direi che un po l'ho subita è andata bene lo scoprirete a breve guardate nicolò come lavora però mi sa che uscirà prima la puntata del mio blog uscirà prima la puntata del tuo blog ma non avrete visto però non è detto perché non fa una quantità di tagli per quello che vedremo giorno numero 4 primo allenamento a trento il palestra che mi fa tornare sempre in mente grandi dei ricordi adesso penso entro sera sapremo le convocazioni di quelli che giocheranno la partita di domani quindi aggiorniamo dopo poi avremo una riunione non so su che cosa oggi quando rigio tutto pranzo ma vi aggiorno anche su questo dopo ora è una riunione organizzata dalla FIBA per dirci ovviamente tutti quanti i regolamenti che ne so le scommesse e tutte quante le cose da non fare che sono sanzionabili dalla FIBA dai regolamenti quindi una riunione diciamo di aggiornamento sotto questi punti di vista qua ed è molto molto interessante questo aspetto mi ricordo che già il mondiale under 19 che avevo fatto al Cairo ci avevano fatto un sacco di lezioni insegnandoci cose che ovviamente erano diverse da quelle che ci insegnano e spiegano adesso però è interessante questa cosa qua adesso mi vesto perché è arrivato il momento di andare a fare la riunione sotto dove vedremo il video della squadra che affronteremo domani ovvero la Turchia e ci dirà chi sono i convocati per la partita quindi speriamo bene alla fine non ha fatto le convocazioni perché siamo tutti convocati sia domani contro la Turchia che la prossima partita andremo in 15 in panchina di conseguenza finisce qui questo episodio numero 3 del vlog vediamo se nell'episodio numero 4 riesco a raccontarvi qual è la giornata tipo di un atleta nel giorno della partita specialmente nazionale ricordatevi di iscrivervi di attivare la campanella che mi fa sempre ridere però ormai lo dico con disinvoltura e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao la vita di uno youtuber